Unima non è più la stessa Scopri i nuovi Pokémon versione nera 2 e Pokémon versione bianca 2 A Unima ti aspettano ambientazioni mai viste e piene di sorprese Dalle strade tortuose di pioggia vento alle lussuose sale di Pokéwood Corri a fare i bagagli e parti per una nuova avventura con Pokémon versione nera 2 e Pokémon versione bianca 2 Provali sui grandi schermi del nuovo Nintendo 3DS XL